La passione è quel valore che ci spinge ogni giorno ad andare avanti, a voler migliorare, a dare tutti i giorni il massimo e voler superare i nostri limiti. Quella sfumatura che si può notare dietro ogni particolare, ogni movimento tecnico che compiamo tutti i giorni e che è quello che dà quella particolare caratteristica al movimento e che ci rende speciali, diciamo.